Proseguono sulla strada Talsano-Leporano i lavori dell'Acquedotto Pugliese per l'ampliamento della rete e il miglioramento della distribuzione dell'acqua. Il cantiere, impresa esecutrice d'Almar, impresa subappaltante evoluzione ecologica, è partito a gennaio e prevede in totale 8 chilometri di nuove pose e sostituzioni. Il progetto, finanziato con 4,4 milioni di euro del PNRR, prevede l'adozione di apparecchiature di controllo della pressione all'avanguardia e una rete digitalizzata per ridurre le perdite, come spiegano il consigliere di ACQP Lucio Lonuce e la direttrice dei lavori Anna Maria Memoli. È messa in opera di 8 chilometri di rete idrica, questo intervento è molto importante specialmente nelle zone periferiche dove la gente lo aspettava da tantissimi anni. Vorrei fare un ringraziamento ai tecnici che stanno seguendo da vicino tutti i lavori perché sono lavori abbastanza complicati e quindi faccio proprio questo tipo di ringraziamento perché è giusto che sia così. Questo progetto è particolarmente rispondente in quanto viene con una massiva campagna di sostituzione delle condotte, viene effettuato concretamente un risparmio idrico. In particolare l'intervento farà sì che con delle valvole di sezionamento si alimenterà il distretto Talsano Sandonato da Taranto per la parte ricadente nel comune di Taranto e da Leporano per la parte ricadente nel comune di Leporano.